il treno regionale 24 24 di treno nord delle ore 14 e 26 per milano greco pirelli e in partenza dal binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma se cugnago lodi milano rogoredo milano lambrate il treno regionale 24 1 3 di treno nord delle ore 14 e 33 per piacenza e in partenza dal binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a codogno santo stefano lodigiano il treno regionale veloce 22 82 di treno italia proveniente da bologna centrale è diretto a milano centrale delle ore 16 03 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma lodi milano rogoredo milano lambrate so so Grazie a tutti. Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Attenzione! Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! 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 Attenzione!